i cavalli sono in partenza partiti in vantaggio Sicilian Focus nei confronti di Sir Marley poi Bjorn che gradatamente passa in vantaggio mentre all'esterno si profila la minaccia di Larix che si propone ora all'attacco di Bjorn dietro i due Sicilian Focus e Isabel Queen poi Sir Marley Scrum Master e gli altri chiusi a Bicco Selection lungo la curva Bjorn e Larix sono in vantaggio apparegliati davanti a Isabel Queen che all'interno Sicilian Focus poi Sir Marley Scrum Master, Roy the Best, Beach Constellation e Thunderflesh siamo ora in retta di arrivo con Bjorn e Larix sempre in lotta tallonati da Sicilian Focus e ora sposta al loro esterno trascinandosi Isabel Queen poi anche Sir Marley e Scrum Master più a centropista a largo di tutti Roy Best Sicilian Focus sta passando su Bjorn e ha preso vantaggio nei confronti di Sir Marley Scrum Master e Roy Best nel finale Sicilian Focus sta allungando in scioltezza ed è Sicilian Focus che si impone davanti a Scrum Master, Roy Best e Sir Marley Rivediamo le immagini con la bella affermazione di Dario Vargiu in sella a Sicilian Focus che nel finale è emerso chiaramente per imporsi mentre per il posto d'onore è Scrum Master numero 8 che precede il numero 4 di Roy Best quindi 3 8 4 il probabile ufficioso arrivo della terza corsa di Napoli